Noi stessi stiamo analizzando tutti i dati per cercare di capire qual è la sensibilità, quindi l'affidabilità di questo test nei vari setti. I test rapidi sono veramente affidabili? Il dubbio è lecito, soprattutto alla luce del nuovo studio da parte del Centro di Biotecnologie Avanzate Change di Napoli, che va oltre quello già negativo elaborato dal professor Crisanti dell'Università di Padova. Se infatti in quel caso si era riscontrato un 30% di positivi al Covid che non venivano però rilevati dal test antigenico, in questo caso si parla di un 50% di falsi negativi. Il problema sembra esserci soprattutto con i pazienti già sintomatici, proprio quelli che potrebbero rivolgersi al pronto soccorso o al medico di base per sapere se hanno effettivamente il Covid oppure no. L'è successo di avere dei pazienti positivi al Covid con sintomi che però risultano negativi al test rapido? Qualche caso c'è successo, ma c'è successo di avere anche test molecolari che sono stati negativi. Se ci sono pazienti che sono sintomatici, che hanno un sospetto forte di infezione da SARS-CoV-2, viene fatto anche il test molecolare, perché ci serve di conferma. Insomma, per avere una risposta chiara, in caso si presentino sintomi sospetti, è sempre meglio affidarsi all'esito del tampone molecolare, anche se è indubbio che i test rapidi possano avere dei notevoli vantaggi, specie sui grandi numeri. All'interno di screening, delle scuole, piuttosto che nei porti, negli aeroporti, ci permette di avere delle risposte che il test molecolare non potrebbe dare.